Welcome to our vlog Welcome to our vlog Welcome to our vlog Thank you bitch You're welcome Hi guys You're welcome to my vlog Oh, did I show? Every vlogger shows the outfit of the day Where's the fucking mirror? My outfit is Crocs I was not expecting to go out today So I'm crocking But if you're crocking, you're rocking I'm giving effortless beauty Grazie I don't know why I don't use spray I don't know why I don't use spray Wait, I have the keys Do you have the keys in your house? Can I ask you if you're in your portfolio? Yes, exactly You know, I'm sorry You know, I'm sorry I will keep it in my pussy I will sing for you I will sing for you Can you see that? I'm drunk You make me hate me Save me You're my alien But all I think Is make me fucking sad If I don't know why I don't know If I don't know why I don't know No I'm rushing This bitch is always late This bitch never shows up in the sky Me? Vru? quando è stato? quando è stato? io f***ing b***h f***ing b***h percè percè è costumato da Sara è come è come è un edito è solo se volessi se volessi c'è un'accessione c'è un'accessione c'è un'accessione c'è un'accessione c'è un'accessione ciao ragazzi, sono in Milano stiamo mostrando la metro il sistema subway in realtà il sistema subway è molto bello in Milano vieni a mostrarvi come funziona questo è il sistema di train come funziona? abbiamo diverse linee questa è la rossa il nervo centrale poi c'è la verde poi c'è la verde che è comunque un pomone un'arteria importante poi abbiamo le nuove arrivate la gialla ma la lilla la patatina lei è una patatina che percorre questa parte alta ma poi come vedete abbiamo tutta questa rete ferroviaria interna dove andiamo ora? andiamo a passare a passare ti piace? ti piace? ti piace? ti piace il subway? questa è la metro questa è la metro rossa come vedete vuoi vedere che è rossa perché è terra? esatto e nei sedili è rosso la verde è speculare ma verde esatto anche questo è stintore è rosso perché ci troviamo sulla rossa sulla verde è verde sulla gialla è gialla sulla guine è gialla lì sta affogando gli scorpioni sta affogando lala lala sta bellissima lala ma c'è una foto non c'è una foto stai un batti sto fermo qua avevo detto che è sufficiente questo sistema ma se è fermato senza spiegazioni ci stai un segnale adesso poi si sta scusa cos'è è un gladiatore prendere la metro dove esce dal sottotempo we made it ma chi va ancora we arrived la quantità di di scelta al giro no 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 non bello io sono tanto questa roba ciao siamo andati al locale e Sara vi è notata almeno un anno è vero che non si mette mai la scritta della persona con visci col cuoricino under un anno cioè dopo un anno potete proprio mai non rivelare mai i tuoi segreti ai nemici perché li useranno così di te stai guardando quello perché ci stiamo muovendo troppo ma quanto sono bello mamma mia quest'anno vuole andare su quel mattone quest'anno quali sono cosa succederà entro quest'anno 3, 2, 1, via quest'anno è Sara e Bax Sara vivrà in Giappone Bax vivrà in D'Ailandria e io sarò in un attico a Milano e saremo tutti 3 milionari e ci troviamo tipo ogni mese ogni due settimane andiamo l'uno dall'altro giriamo tutte e tre le case mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace cosa succederà nel tuo 2023 cosa succederà entro quest'anno 2023 D'Ailandria, Filippini, Taiwan, Malesia tutto quanto Sud Asia 2024 Tokyo 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 abiterò Tokyo in una penthouse this is the penthouse e poi godagnerò dai 10 a 30 mila euro al mese minimo minimo farò musica creatività arte espressività per mantenervi espressività dai così no non di qua devo andare al mac sembra un documentario sulla tua vita calvin claim asked me to be his partner actually your name your name is bello hadid i was like no girl you know my schedule is so tight girl actually i was supposed to be in the shooting yeah yeah because i was in miami i was in miami girl i swear i was in miami i was so mad but actually i 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 so that's actually me if i look a little bit different they photoshopped you know their bitch i i i i i so that's also me yes basically i'm the main face as you can see yes yes ma è lei l'ho già vista si anch'io non so do oh yes in the mirror ahaha ahaha no non tipo le copertine le copertine è praticamente perché ho trovato perché il mio grafico che sarebbe infiamato di sala la mia amica ciao 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 mmm questo è molto caldo oh questo è molto caldo che stiamo facendo? siamo f***o andiamo alla Rosalia stiamo f***o pre-gaming siamo 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 f***o pre-gaming e preparandoci per andare a vedere la rosa rosalia rosa succhettetta allora sto just designo sto mettendo questa anche un po' lunghina un po' lunghina così questa yes dice no ma io voglio uscire ora è tardi dopo di s***e non vuole neanche passare una foto dello store pre-gaming ci sta clown ci sta clown ah diciamo del termine che abbiamo coniato ieri che hai inventato tu che se una cosa non è giving it's taking capito? c'è una cosa mi sta proprio levando energia cioè non mi sta dando non mi da mi toglie mi sta togliendo esatto a me piace chiedi al pubblico pubblico lo saprò troppo tardi purtroppo lo saprai dopo a stierato al concerto e la gente si dice che schifo due catene ma come gli è venuta in mente lo sapevo lo trovi sempre lo faccio sempre che schifo ma davvero le hai fatto per copiarmi sì sono prevedibile penso che tu eri così lo faccio sempre però dopo le foto lo faccio spesso anche anche dopo le foto ho avuto con la cosa per la fila perché ho già visto che era chilometrica giuse e mamma mi ha giocato che vede da qua la fila uh there's one thing about us we never do lines iniziamo ad affermare perché ha funzionato l'altra sera sarà così facile entrare ce l'ho fatto saltare la fila ho detto scusate sono uno dei ragazzi immagini adesso cioè loro ci hanno visto fanno salta ora la fila fila inesistente per noi fila non sappiamo la rosaria ci vede e fa falle entrare subito da backstage the cue they can't do the cue they can't do the cue ho fatto 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 we're going we're still pre-gaming we're still pre-gaming we're for real we're tight we're tight we're tight we're all miss we're stressing out siamo come si dice quando sei drapito prostagio and the testa dell'autobus che non ci vuole far scendere we're trying to get out we cannot we're trying I'm not listening and looking at my face look at how fucking hot we're going to go and the people in the back do not get out we're going to get out and we're going to get out we're going to go lui ci ha aspettato 5 ore e tutti sì we got free coca cola bitch comunque avevo detto che la fila sarebbe stata molto semplice infatti the F word doesn't exist for us in realtà era una figa molto più ok concentriamoci sul positivo il positivo è che siamo entrati senza fare la F word as I told you we never did F word It's legal, but it's still a canna It's legal, but it's still a canna I just spoiled bitch I'm drunk as fuck How are we doing? I'm drunk as fuck Kind of shit How are we doing? Ayyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Just deshalb All in the front, all in the back Just like that like that Though I play on my ticket on And I call like that like that All in the front, all in the back E noi dove stiamo? Facci un video e spieghiamo dove stiamo. Cioè basta fare così? Sì, noi siamo sotto perché ci siamo fermati qui. C'è un piccolo casa. C'è un piccolo tono di comfort. Abbiamo una volta. Abbiamo la prima volta. Abbiamo la prima volta. Non mi sento così cosi. È la svolta. Abbiamo bisogno di cercare. Stiamo aspettando per te. Non è la prima volta. Angele numero 944. Non si vede ma c'è. Non è il 945. 45, 45. 44. 45? 44, 45. io so non dire I did that I did that